Siamo al quartiere Tamburi, nella zona delle cosiddette case parcheggio. Siamo volutamente di sera perché vogliamo far vedere, oltre allo stato di decozione, di abbandono in cui versa quest'area, proprio il buio assoluto che regna sovrano. Prego perciò il nostro operatore di ripresa di spegnere un attimino il faretto che ci serve appunto per illuminarci e vi facciamo vedere il buio assoluto. Prego, guardate, queste sono le condizioni in cui si vive alle cosiddette case parcheggio. Un buio, ma anche una situazione di abbandono, di decozione, degli edifici che stanno letteralmente crollando a pezzi. La gente che abita qui iniziò a viverci un 45-50 anni fa, più o meno, e doveva essere una fase di passaggio temporanea, prima appunto di essere sistemata, allocata in altre abitazioni. Da quelle false promesse sono trascorsi 45-50 anni circa. Nulla, nessun miglioramento, ma peggioramenti continui a livello strutturale, a livello di igiene, a livello di tutto. Questa è gente che ha una propria dignità, stiamo parlando di esseri umani. Sono trattati non da cittadini di serie B, ma di ultima serie, usando una terminologia calcistica forse da terza categoria e non lo meritano. Vogliamo raccogliere le testimonianze di persone abitanti del quartiere Tamburi. Ho al mio fianco, i due ci sostengono tanto nelle nostre dirette, Ugo Padariti e Loris. Ugo, peraltro, sarà con noi candidato al Consiglio Comunale con il Movimento Taranto senza Ilva. Ugo, la dignità umana è calpestata. Esattamente, hai detto benissimo. Io mi sono candidato come consigliere comunale con la lista Taranto senza Ilva. Cercherò di fare qualcosa per il rione Tamburi, perché il rione Tamburi è dimenticato. Ora, in questo momento ci troviamo qui, le cosiddette case parcheggio, come tu hai ben detto, dovevano essere case temporanee, ma qua purtroppo le persone sono più di 40-50 anni che vivono in un degrado, come hai detto, più di serie di ultima serie, sperando nella nuova amministrazione come candidato, tu sindaco Luigi Abade, di dare una luce anche a queste persone che abitano. Una luce in senso fisico e anche di morale, perché è triste vedere tanti bambini che devono vivere in questa condizione. È disumano. La cosa più brutta è vedere le tante promesse dei politici che vengono a ogni tornata elettorale, vengono per seminare chiacchiere e intanto raccolgono i voti. Loris, tu sei un abitante del quartiere Tamburi, io ti apprezzo vivamente, lo dico col cuore perché con lui ci siamo conosciuti attraverso le dirette Facebook ed è un giovane che non piega la testa e questo è un motivo di speranza, è un sintomo di un'area, di un quartiere che vuole reagire, però così non si può vivere. Assolutamente. Spero che con la nuova amministrazione finalmente gli abitanti dei Tamburi possono avere un ristoro, una degna collocazione anche perché, ripeto, le tante promesse che queste case dovevano essere abbattute e quindi gli abitanti portati altrove, in zone certamente più decenti, invece nulla di tutto questo. Speriamo che qualcosa cambia e che finalmente il quartiere di Tamburi non venga, come posso dire, sempre più abbandonato in confronto agli altri anni. Ecco, mi dicevi che tua mamma vive da 46 anni, mi pare, qui, quindi all'inizio doveva essere un fatto così temporaneo, passeggero e così non è stato, ma anche vediamo proprio le condizioni strutturali interne alle abitazioni, abitazioni che letteralmente crollano a pezzi, uno stato proprio di decozione strutturale, umido, pareti, malsane, insomma non è una condizione dignitosa. È invivibile, è invivibile. Ecco, vedete, io ammiro molto questa gente perché questa gente ha la dignità, ha la forza, ha il coraggio di parlare. Non è facile perché molte volte è più comodo piegare la testa, non esporsi, invece è bello avere gente che ci mette la faccia, ci mette il cuore. Ecco, io sarò un sindaco di strada, nel senso più positivo del termine, Ugo, nel senso non il sindaco che sta ad ingrassare sulla poltrona, ma sono vent'anni che io faccio il giornalista e giro per la città e mi piace il contatto diretto. Sono quasi le dieci della sera, però è bello affrontare i problemi, affrontarli. L'ho fatto per oltre vent'anni da giornalista, lo farò da sindaco. Lo so, lo so, io ti ho seguito sempre, ti ho visto sempre che sei stata sempre una persona di strada, anche prima della tua candidatura come sindaco di Taranto, sei stato sempre al fianco del cittadino, dell'operaio, di tutte le persone che avevano il bisogno. Sono con la... Ammiro. Grazie, per questo ho voluto fare una lista di gente per bene, di gente semplice, di gente che ci mette il cuore. Ecco, questa è l'idea che vogliamo portare avanti. E mentre noi stiamo parlando qui, delle nubi minacciose si stagliano, fuoriescono dal mostro, altro che vapore acqueo, come lo definiva assurdamente l'onorevole Michele Pelillo, queste sono emissioni mortali. Taranto merita altro, i tamburi meritano altro, ben altro e in particolar modo gli abitanti delle cosiddette case parcheggio, sempre al loro fianco. È un impegno che prendo da uomo, da cittadino, prima ancora che, me lo auguro, futuro sindaco.